Tante le odissee dei disabili, dei portatori di handicap che vivono ogni giorno, la CGL denuncia uno stato di cose che non va soprattutto all'interno del sistema sanitario perché avete avuto diverse segnalazioni. Sì, moltissime, riguardano centinaia e centinaia di famiglie dove il familiare viene ricoverato, esce dall'ospedale con una grave forma di handicap, quindi ha bisogno di un letto particolare con le sbarre, ha bisogno di pannoloni, ha bisogno di traverse, ha bisogno di una serie di cose che vengono prescritte dal primario del reparto. Dopodiché succede che il primario del reparto che ha prescritto questo deve attendere che il medico di famiglia faccia questo, che faccia almeno una domanda per l'umanità, poi se ne passano altri 20 giorni perché questo venga visto, poi forse arrivano, i 20 giorni sono soltanto indicativi perché il letto magari una volta arriva dopo due mesi o tre mesi e poi magari una volta che non serve più a quel signore il letto resta in quella famiglia per altri 5-6 mesi. Insomma, un'odissea burocratica è inaccettabile. Inaccettabile e costosa per chi prende 700-800 euro al mese, inaccettabile e costosa per chi sta in gas di integrazione e guadagni, per chi è disoccupato, per chi questi soldi per andare in farmacia non ce l'ha. Quante segnalazioni avete ricevuto? Noi ne riceviamo a decine. Adesso abbiamo deciso di fare iniziative di questa natura come quella che ho avuto stamattina, ma dopodiché noi vogliamo anche vedere in termini anche di iniziative giuridiche quello che si può fare perché non si può più. Noi non siamo pazienti degli ospedali, della sanità. Noi siamo clienti. Cosa chiedete principalmente all'ASER? Uno snellimento burocratico? Vi chiediamo di fare una cosa che tolga di mezzo un'ottusità burocratica, laddove fosse veramente così. E cioè è molto semplice. Basta che prende uno stanzone, ci mette dentro un po' di scatoloni, di questi pannoloni, di queste traverse, essenziale, un po' di letti che tra l'altro ricicla, conseguentemente al momento in cui quel paziente con quel tipo di prescrizione primario esce, ha già quella che possiamo chiamare una dotazione che gli serve il giorno dopo, non un mese dopo. I disabili rischiano anche uno di sé dal punto di vista dei trasporti. Ultimamente il consigliere regionale Ruffini ha segnalato, ha denunciato una diminuzione dei finanziamenti che la regione erogherà per quest'anno, anzi per il prossimo anno per quanto riguarda i disabili, i disabili che rischiano di rimanere a piedi. I disabili rischiano di rimanere a piedi, i disabili rischiano continuano a non poter accedere a una serie di funzioni in questa provincia. I disabili soprattutto non vengono considerati per i posti di lavoro. Un ragazzo disabile, un giovane disabile, ha bisogno certi di poter anche salire sul tram, di poter attraversare un bacio a piedi e così via. Ha bisogno anche di poter lavorare. Ne ha doppiamente bisogno rispetto al disoccupato, perché per lui è anche un modo per realizzarsi, per sentirsi utile. Io domando alle imprese che tutti i giorni fanno la morale al sindacato, fanno la morale agli altri, domando anche alla politica, che parlo di disabili quando gli conviene, perché non vengono assunti.